ciao ragazzi siamo sul mio girera cpa ho fatto un giro per riscaldarlo e ora voglio fare un giro insieme a voi sul monitor voi non lo vedete ma io ho il calchimetro e vi aggiorno sulla velocità massima allora partiamo subito in accelerata ho dovuto rallentare perché ce non do aspettiamo che farsi qualche immagine un po' di più non può accelerare andiamo un po' di più un po' di più un po' di più un po' di più applausi un po' di più un po' di più comunque per un tratto quel reticino era in salita facciamo un percorso diverso ora è tutta salita ora è più o meno piano andiamo andiamo un po' però vengo a fare il gioco un po' di più 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.